Covid-19 in Sicilia 65 casi, 3 contagi a Siracusa, apprezzione, riapertura della scuola. In Sicilia ci sono 65 nuovi casi nelle ultime 24 ore e quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute, i tamponi eseguiti sono 2.158 che portano in totale a quasi 403.000. Sono 292 morti accertanti per Covid-19 nell'isola dall'inizio dell'epidemia. Dei nuovi positivi 6 sono migranti ospitati nell'hot spot di Lampedusa, 6 sono i guariti che portano in totale a 3.144. Sul fronte della suddivisione fra province sono ben 43 nuovi contagiati a Palermo, fra i quali ci sono i 6 migranti, 9 sono a Catania, 6 a Trapani, 4 ad Agrigento e 3 a Siracusa. Attualmente ci sono 1.842 positivi, di cui 152 ricoverati in ospedale, 16 in terapia intensiva e 136 in regime di ricovero ordinario, 1.690 in isolamento domiciliare, per un totale di 5.180 casi dall'inizio dell'epidemia. 6 sono i guariti che salgono a 3.144. La riapertura della scuola cresce nell'ambiente anche la prensione per l'andamento dell'epidemia nell'isola, nonostante le autorità continuino a rassicurare circa il fatto che la situazione è sotto controllo. Allarme e destano i contagi ospedalieri. Sono tre le donne contagiate, probabilmente da una paziente morta due giorni fa, e che solo dopo la morte è risultato positivo al virus. La donna è deceduta per altre patologie. I controlli scattati dopo il tampone positivo post-mortem hanno fatto scoprire questi casi.